Se ricarico il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto a un creatore inserite il codice fortu poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo all'Eslake per tentare la challenge se ricarico il video finisce Vi dico che mi vedete con sta faccia perchè sono appena uscito da un tentativo fallito in ending Cioè ragazzi io sono arrivato in ending senza ricaricare E in ending ho perso E non è proprio una cosa stupenda ragazzi Ve lo assicuro non è proprio bella specialmente da se arrivo in ending Vabbè lasciamo sta A me serve necessariamente un'arma prima che muoio E vi spiego un attimo anche come dobbiamo fare sta challenge ragazzi Datemi un secondo Mi devo un attimo rinfucillare qua Allora vi spiego velocemente Non è facile come sembra Allora Dai andiamo Oh mamma mia ragazzi è proprio forte Devo dire la verità Queste granate non le potevo lanciare peggio Non mi sono bloccato bello Ok va bene Ok va bene Allora sono due proiettili non mi interessano Questo però ne ha otto Io nel caricatore Ok mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non siete iscritti Attivate assolutamente le campanellina per vedere altri video folli come questo Perché ce ne sono sul canale e ne arriveranno Quindi mi raccomando ragazzi continuate ad iscrivervi Vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram Che si chiama FortoTheGamer C'è il link in descrizione per arrivarci più velocemente E un'altra cosa Inserite ragazzi all'interno dell'item shop il codice creatore Forto Mi raccomando ragazzi fate Ve lo chiedo proprio veramente come piacere personale Perché non credo che Le persone che attualmente avete nello shop facciano sfide così folli Cioè sono serio ragazzi È folle questa challenge Perché io posso capire che Una challenge molto difficile sia per esempio quella di non fare kill Ok quella pure è difficile Però in quel caso tu ti puoi nascondere Cioè in questo caso io non mi sto nascondendo Io in questo caso lo sto facendo capito proprio di Di aggressività E non è proprio facile Attenzione che c'è raga C'è Sta sopra Immagino di sì Si vuole culare E a me dava l'impressione di uno che si stesse curando A parte che c'è l'icone Ok A posto Vediamo che armi c'aveva 4 non mi interessa 16 potrebbe interessarmi Io c'ho 4 proiettili però qua dentro Aspettate Questo è vuoto? Non so se è vuoto No è carico Ok E allora facciamo così Cerchiamo di innerci tutte armi cariche ragazzi La rarità non credo sia Di così grande importanza Io questo Va bene così Va bene così Allora mi servono anche Ah Ho capito Vai mirami 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 Vai Vai mirami Dai Dai Non essere noioso E mirami Ok Mi sta raggiungendo invece Bello Ti prego non chiudermi Mi hai chiuso Oh shit Mi hai chiuso Ok 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 Però raga mi serve vita Mi servono cose Quindi io devo andare nella zona del fiume E piarmi cose Ah no 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 Hai un AUG Non ho materiali Hai un AUG E non ho materiali Sono morto? Sono dead guys Ok Un tizio con un AUG E io senza materiali Eh vabbè È finita Ok Me la sono giocata bene Finché ho potuto Dimmi che questa UG è carico All'anima tua Non è carico Comunque ragazzi Ancora lo so che l'ho detto già nell'ultimo video Ma voglio ancora ringrazio Ma voglio ancora ringraziarvi per i risultati fantastici che stiamo raggiungendo Perché veramente ragazzi stiamo crescendo un sacco assieme Questa cosa mi fa veramente molto piacere Mi fa piacere che tante persone si stiano unendo alla nostra community C'è ragazzi veramente siamo qualcosa di fantastico Tutti assieme così legati È magico Veramente Grazie a tutti Grazie 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 Allora devo mollare tutte le mie munizioni Ok 6 e 4 non è il top ragazzi Perché non ho nessun fucile a pompa carico in realtà Non voglio mettermi un po' insieme Non è il safe ragazzi Aspettare Per ora me la voglio un po' camperare Piano materiali Stanno tranquilli Easy Non voglio rogne Non voglio rogne Cheat Ci stanno gente a petare lì Va bene Allora Lì solo la centrale è in safe Ma io ho paura che ci sia qualcuno Infatti c'è No ragazzi Tendo a evitare Non fa niente resto in safe Eh no Ma ha visto E vabbè Ok 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 Vabbè Vai a petare Ci sto Va bene Vediamo Se proprio devi rompere Facciamolo Ovviamente c'è uno scar Non c'ho Non so che arma c'ha Ah Sta pure un altro tipo Vabbè No no ragazzi Ciao Vabbè Non so quanti colpi Perderò Ma io non posso spiegare Materiali E munizioni Per sta cosa Ciao No No Sono morto Sono morto Sono morto Vabbè 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 Ma voi l'avete sentito il panico Lasciamolo passare Lasciamolo passare Ok stai fai dando stai fai dando a posto vai fai ta fai ta Ma l'ha visto? Mi serve fucile a pompa? Mi serve fucile a pompa? Quanti colpi aveva il suo AUG? 30 Ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.